Ciao, abbiamo giocato una partita di grande sostanza, non abbiamo giocato benissimo in attacco, abbiamo pasticciato abbastanza anche nel finale della partita, abbiamo messo grandissima intensità difensiva e ritengo che la chiave di questa vittoria sia essenzialmente nel buon lavoro difensivo che abbiamo fatto, abbiamo fatto una partita in alcuni momenti totale, non sempre, però per 40 minuti abbiamo difeso, e abbiamo difeso bene, aggredendo, sporcando le linee di passaggio, concedendo poco al tiro da tre punti di Varese che ha trovato dei canesti da tre spesso a seguito di palle perse nostre, ma quando siamo riusciti a schierare la difesa abbiamo fatto un grande lavoro difensivo, questo è grande merito dei giocatori e con loro grande merito del mio staff, che ha lavorato in settimana molto bene nel preparare questa partita perché siamo in prossimità della Coppa Italia e quindi ci poteva stare anche magari di avere un pensiero a venerdì quando incontreremo Brindisi, però siamo stati bravi a buttarcelo dietro le spalle, a Brindisi cominceremo a pensare da domani, siamo stati concentrati su Varese, sapevamo che avremmo trovato Varese al completo, anche se chiaramente non ancora al meglio della condizione, perché è evidente che dovranno inserire il nuovo americano, Cuba dovrà lavorare per raggiungere la migliore condizione fisica, Cristian è ancora alla ricerca della migliore condizione fisica, però sapevamo che era una partita delicata, era una partita delicata per noi, era una partita delicata per Varese, sapevamo che avremmo trovato una squadra di Varese veramente pronta. Abbiamo vinto la partita sui 40 minuti, abbiamo cercato di non spaventarci se qualcosa non andava, soprattutto nel primo tempo, quando Varese ha reagito sempre alle nostre iniziative, al nostro gioco, e direi che proprio questa è stata una partita che, come si dice sempre, dobbiamo giocarla per 40 minuti, noi l'abbiamo giocata per 40 minuti, sicuramente difensivamente, io credo anche che qualcosa di sbagliato, di forzato che abbiamo fatto in attacco era un po' figlia del fatto che spendevamo molto in difesa, e poi magari potevamo essere poco lucidi, però poi riuscivamo sempre a non aggiungere a un errore, fatto in attacco, un errore difensivo, e questo ci ha premiato. Grazie.